Bolidi, se non lasciate subito un like al video di Oppo, vi sterminerò senza lasciarne neppure uno! Parola di Eren Jaeger! Sì, prima che facciate battute sui miei baffi, sono veri, non sono finti, non so per quanto mi dureranno, mi dureranno penso per poco, però fanno straridere, molto ridere. Non vi sto neanche a spiegare perché li ho fatti una cavolata, però vabbè. Lasciate un like per i baffi, mi raccomando, e voglio anche ricordarvi che se siete appassionati di Minecraft, sul canale trattiamo pure Hytale, quindi mi raccomando, dategli uno sguardo perché sicuramente potrà piacervi. Trovate tutto in descrizione, mi raccomando. Tuttavia ragazzi miei, oggi siamo qui dinnanzi a voi per parlare effettivamente di quello che è stato il Minecraft Live che si è tenuto appunto questo venerdì sera e che ho seguito con passione. Questo per vedere chiaramente le novità che Minecraft avrebbe proposto per il futuro, appunto stagione anno 2022. E per molte persone questo evento è stato un po' sottotono, non è piaciuto, non è piaciuto effettivamente il Wild Update, la versione 1.19 del gioco. E oggi qui noi ne parleremo perché effettivamente parleremo comunque sia dell'evento Minecraft Live, ma allo stesso tempo parleremo comunque sia dell'evento, come vi dicevo, ma anche dell'update. Partiamo però con il dirvi che purtroppo il mob vote di quest'anno è stato lo stesso, rovinato da effettive persone che hanno veicolato la community a votare un mob piuttosto che un altro. Allora, ha vinto l'Ally, mob interessante, come vi avevo già detto nel video scorso, che tra l'altro sono contento che vi sia piaciuto e che in tanti mi avete chiesto dammi un parere effettivamente sul Minecraft Live, quindi grazie mille, questo video esiste anche per voi. Io avrei preferito il Copper Golem per gusti miei personali, ma io vi avevo detto voi pensate comunque con la vostra testa, non lasciatevi influenzare da quelli che sono i gusti di un creator, perché il creator deve ispirare, non deve comandare. Dream, a quanto pare, non aveva niente a che fare con questa votazione, per fortuna, a quanto pare gli avvocati di Mojang, a seconda delle varie pronunci, l'ho sempre pronunciato Mojang, gli avranno detto non rompere le scatole, stai lì e basta. E ci sta. Tuttavia su TikTok tante persone ho visto che hanno spinto la community internazionale a votare l'Ally, facendo fede però su una cosa che il mob non fa. Ovvero, molte persone hanno erroneamente capito che probabilmente questo Ally abbia la possibilità di droppare o comunque duplicare gli oggetti. L'Ally non fa tutte queste cose. Potrai dargli degli oggetti e potrai interogire con questi oggetti, ma di sicuro non li doppierà, non è che li clonerà. E quindi molte persone hanno spinto con queste false informazioni la community che magari non aveva capito a votare per un determinato mob, così che poi dopo se la prenderanno con Mojang perché effettivamente non avrà fatto quello che hanno detto. Il problema è che vi hanno detto che quella Ally lì non farà quelle determinate cose. Quindi la colpa starà probabilmente nella community che non si sarà informata bene o che si sarà informata da fonti non accreditate. O fonti che probabilmente ci godevano nel rovinare questa cosa. Tuttavia, parlando invece del Wild Update, in uscita ancora non si sa quando, si pensa nel trimestre estivo del 2022, questo update avrà delle curiosità particolari e delle caratteristiche molto peculiari perché sarà caratterizzato da biomi lussureggianti e belli fighi, che ha detto a loro, fino a toccare pure caverne misteriose e città altrettanto oscure. Il Wild Update però promette anche che aggiornerà un'altra volta il mondo di gioco. E qui molti player si sono un po' iniziati a domandare ma a questo punto era necessario fare un cambiamento del genere a fronte di quello che è stato quello nella 1.18? Ne vale effettivamente la pena considerando quello che effettivamente offre questa versione 1.19? Perché sembra che i biomi in questa nuova versione verranno per lo più riciclati da precedenti votazioni che non hanno effettivamente fatto sì che quel bioma venisse quantomeno scelto all'epoca. Stanno riciclando praticamente i biomi scartati. Un esempio lampante è la palude, quindi verranno aggiunte questa sorta di mangrovie, le quali avranno radici e blocchi dedicati, così da creare un ambient bioma appunto molto paludoso, le cosiddette paludi di mangrovie. Interessante peraltro anche la possibilità di proporre questi blocchi di fango che saranno craftabili con terra e acqua, se non trovabili chiaramente in natura. Se però comunque questi blocchi verranno fatti essiccare si potrà ovviamente trovare l'argilla, figa questa cosa, dalla quale si potrà sviluppare a sua volta il cosiddetto blocco di fango. Ci saranno anche le rane con il loro ciclo vitale, quindi girino, rana, eppure verranno introdotte le ceste sulle barche finalmente. Un'altra nota dolente però è stata effettivamente che non hanno mostrato niente di nuovo però di fisico che tu potevi quantomeno vedere e giocare. Ci sono stati mostrati tanti concept art e questo ha effettivamente spaventato multiplayer, in quanto sono stati presentati come vi dicevo solo dei disegni, di tutti quelli che sono i vari biomi presenti all'interno di questa fantomatica 1.19. Questo potrebbe essere un segno apparente che gli sviluppatori, appunto la software house, non abbia del materiale fresco da poter proporre ad un evento del genere. E da un lato posso anche capire perché se non fai vedere roba su cosa in questo genere di eventi, quando li fai vedere? Lungi da me da voler creare Astio, però effettivamente come si può notare sono stati presentati veramente tanti concept art e poca sostanza. Questa cosa qui però ve la devo far notare ad un alder vero in quanto appunto grande estimatore di Hytale, come sappiamo uno dei canali che lo tratta in Italia. La differenza con quello che si può vedere adesso a schermo, che sono chiaramente alcune delle zone presenti in Emerald Groves di Hytale, sono incredibilmente belle. E già solo da queste immagini si è visto molto di più di quello che è stato presentato in questo Minecraft Live 2021. Quindi bisognerebbe riflettere su questa cosa. Anche la differenza per quanto riguarda la palude, sopra si può vedere The Wild Update e sotto la versione vanilla di Hytale. Sono su dei piani completamente diversi. Ok che puoi mettere le shaders sopra per quanto riguarda comunque la versione di Minecraft, però di fatto penso che si potranno mettere probabilmente anche su Hytale, ma lì vabbè. In ogni caso la versione sopra mi dà un po' l'impressione di voler mettere, non so capite un po' l'esempio, una cravatta o un porco. Non che Minecraft sia un porco, è un modo di dire, ovvero vai ad abbellire qualcosa che però è già tiratissimo. Non prendetela come un'offesa, eh, stimatori di Minecraft, ci mancherebbe. È un dato di fatto, però c'è, guardate, fatevi due conti. Questi sono alcuni degli alberi presenti all'interno di Hytale. Non sono manco tutti. Guardate come sono diversificati. Ed infine abbiamo chiaramente quella che potrebbe sembrare una foresta sopra per quanto riguarda Hytale e sotto invece la palude che risulta un po' spoglia. Molto diversi dai concept art che ci sono stati fatti vedere prima. Tuttavia in linea di massima mi verrebbe quantomeno di tranquillizzare la community perché non sappiamo, non siamo certi di questa cosa. Vi ripeto, c'è il pallino ma non siamo certi del tutto. Basta semplicemente avere fiducia, un po' di fiducia penso se la meritino. Tuttavia molti credono che la pochezza di contenuti presenti all'interno di questa 1.19 sia da attribuire al fatto che la 1.18 ha veramente fatto sì che gli sviluppatori arrivassero a questa 1.19 stremati e con poche novità effettivi. E che quindi questa 1.19 sia una sorta di nuova versione che vada a comprimere e a far guadagnare del tempo per ipotetici aggiornamenti futuri molto più corposi di quelli presentati oggi. Nello specifico si faceva riferimento al cosiddetto Cave Update, ovvero che quell'update ha cercato quantomeno di proporre qualcosa di nuovo ma ha limitato tantissimo i lavori futuri in quanto era un update bello corposo. Per quanto riguarda invece la parte più interessante a mio avviso presentata in questo diciamo wild update, ovvero il Deep Dark, qui abbiamo la nota più dolente di tutte, ovvero che non verrà proposto nella versione 1.18 ma andrà a slittare direttamente la 1.19 quest'estate. Brutto colpo perché come si diceva sarebbe dovuto essere compreso all'interno della 1.18, tuttavia la proposta di effettivamente proporlo in questa nuova versione 1.19 è anche per il fatto che avrà dei miglioramenti, ci saranno proposte delle città sotterranee, dicevano. E quindi in questa 1.18 finale, che ormai siamo appunto agli sgoccioli, non ci saranno ulteriori aggiornamenti a parte qualche fix di qualche bug eccetera, ma poca roba, poca sostanza. Vogliono concentrarsi più sulla versione 1.19. Inoltre il Deep Dark sembra che abbia una sorta di nuovo, non lo so, nuova sostanza viscida che ci sarà nei vari blocchi, sarà interessante scoprire che cosa sarà però, vabbè. Attualmente però non si è fatta nessuna menzione sulla tanto attesa archeologia che molti player hanno addirittura dimenticato in quanto totalmente dimenticata pure da Mojang. Nel complesso però a me la conferenza non è che non mi sia piaciuta, a livello scenico è stato comunque qualcosa di bello da vedere, ma a livello contenutistico effettivamente hanno proposto poche cose. Perché comunque il Wild Update è qualcosa di interessante, ma non si è visto niente. Nonostante sia comunque delle idee riciclate, sono delle idee interessanti. Mi dispiace molto per il Deep Dark, sinceramente. Mi è dispiaciuto anche per quanto riguarda la varia votazione che, allora, da un lato l'Ally, ripeto, a me non dispiace come mob, però trovavo il Copper Golem molto più utile all'interno del gameplay, gusti miei personali. E anche perché ho capito per quale motivo sia riuscito a essere così combattuto con il Copper Golem. Perché molte persone hanno spinto in maniera indiretta la votazione rovinandola, mettendo delle informazioni errate su questo mob. Soprattutto, ripeto, su TikTok, su vari gruppi dei quali non farò nome per non fare quel minimo di pubblicità che posso fare anch'io, perché, insomma, mi sembra giusto. Detto ciò, ragazzi miei, fatemi sapere cosa ne pensate effettivamente di questo Minecraft Live, di questo Minecon, che, ripeto, aveva anche altre novità dal punto di vista di Minecraft Dungeon, con il discorso della torre, però, vabbè, nel senso, il fulcro del discorso era il nuovo update, il wild update, il resto era un po' di contorno. Ultima volta, ragazzi, vi ricordo che in descrizione ci sono anche i video su Itel, se vi piace comunque Minecraft. Noi ci rivediamo in un prossimo video, in una prossima live. Ciao a tutti, bolidi. Ehi, ciao ragazzi, grazie per essere arrivati fino alla fine del video. Sapete che qui ne potete trovare altri, vero? Ciao a tutti, bolidi. Alla prossima, dal pelatone più potente che ci sia.